...che questo si presenta con un altro look. Un altro look che vuole farti una sorpresa perché vuole vedere la tua reazione di nuovo. Io penso che insomma, voglio dire, Richard già con il Boccia l'ha gonfiato di Boccia... No, no, ancora no. Vabbè, voglio dire, lo gonfierai di Boccia. Stasera se lo vedo truccando la medallaro come tu mi hai detto all'orecchio prima e che adesso non dici perché c'hai timore! C'hai timore dei dirigenti schifosa! Schifosa! Vabbè, un po' di timore... Io le cose le dico in faccia! Hai capito? Sì, lo so, Richard, ti conosco molto bene. E lo so che viene Boccia e stasera io lo riempio di botte. Capito? Stasera vedrete tutti su Rai 2 Richard Benson che lo riempie di botte. Capito? La settimana scorsa ho urlato, ma vatti andare fuori di testa! Eh, lo so, Richard, però a me fai paura quando fai così perché ti scaldi un po' troppo. Non vorrei che gli facessi fare una brutta fina a sto poro ragazzo. In fondo che fa? È solo un cucciolo? È solo un cucciolo? Non mi menzionare questa parola! Che già solo a sentire la parola cucciolo io comincio ad avere delle fibrillazioni al cuore. Capito? Che voglio dire? Ma comunque andiamo avanti.